Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Ciascuno di noi ha le proprie credenze e la propria fede. La religione è una dimensione antichissima e il cristianesimo presenta particolarità uniche. Oltre alle sue figure centrali, infatti, include anche altri personaggi rilevanti come gli apostoli e i santi. Tra questi spicca una figura che ha segnato profondamente la storia della fede cristiana. Padre Pio da Pietrelcina, il frate Cappuccino divenuto santo dopo un lungo processo di canonizzazione. Padre Pio è stato uno dei pochi a manifestare le stimmate, i segni della passione di Cristo, il che lo ha reso oggetto di studio. Non solo da parte della Chiesa ma anche della scienza, che ha cercato di comprendere i fenomeni straordinari che gli si attribuivano. Come annunciato in diretta dal Tg1, una delle sue reliquie più significative, il cuore di Padre Pio, sarà esposta accanto al corpo per la celebrazione della sua festa liturgica a settembre. Una decisione che ha suscitato grande emozione tra i fedeli. Inoltre, è in fase di valutazione la costruzione di un tunnel sotterraneo che permetta ai pellegrini di accedere in sicurezza alla cripta della basilica, progettata da Renzo Piano e luogo in cui è custodito il corpo del santo, soprattutto durante i mesi invernali.